Oltre 200.000 euro risparmiati rispetto alla somma pianificata. Sarebbe una buona notizia se non fosse che quei soldi fanno parte di un capitolato previsto per il servizio menze scolastiche di Pescara. Documento all'interno del quale vengono messi nero su bianco numero di lavoratori, ore previste e costo di ognuno per lavoratore. Il Movimento 5 Stelle mostra invece un documento che dimostra il non rispetto di questi vincoli e per farlo incrocia i dati della ditta vincitrice dell'appalto scoprendo così che i suoi addetti lavorano menore rispetto agli accordi. Da qui parte l'interrogativo. Sì, in effetti se andiamo a guardare quelle che sono l'elenco delle qualifiche e delle ore che sono in capitolato o nella determina non corrispondono effettivamente a quelle che è l'elenco degli operatori che la Cirfood ci ha fornito e che teoricamente in questo momento è la vincitrice dell'ultimo appalto 2013-2017 ma non è ancora segnataria dell'appalto. Se andiamo a calcolare tra le cuoche, aiuto cuoche e assistenti di mensa in totale siamo intorno ai 221 mila euro. In pratica sono delle ore che loro fanno di meno attraverso una quantità minore anche di unità lavorative. L'intervento dei 5 Stelle ha poi una seconda finalità. La realtà delle mense pescaresi ha la particolarità di fare uso di due appalti distinti. Uno con scadenza annuale e uno con scadenza quadriennale. Da una decina d'anni e più le ditte sono quasi sempre le stesse e quindi questo è il servizio a Pescara. Relativamente al fatto che questa suddivisione purtroppo alimenta un prezzo molto elevato al punto che addirittura un solo pasto equivale a 7,26 euro di cui 4,07 euro ai genitori. Da qui si passa poi a una richiesta. L'appalto in questione, quello dove risulterebbe un'incongruenza tra documento firmato e dati di reale impiego, ancora non sarebbe stato consegnato. Dunque ancora non sarebbe effettivo. Chiede il Movimento 5 Stelle di fare dovuti controlli e decidere solo in seguito il da farsi per evitare sperpero di denaro pubblico. Noi chiediamo di fare trasparenza perché oltretutto alla fine dell'anno, cioè il 31 dicembre, noi in questo momento siamo in prorogazio come servizio supporto alle menze. Quindi il dirigente dovrà decidere che cosa fare, se ripetere questo prorogazio, se assegnare finalmente questa gara o se annullare questa gara attraverso magari anche queste documentazioni che noi comunque abbiamo fornito alle autorità giudiziarie per il caso.